Ed è con la voce straziante di Rosa Balistreri che Luca Ianni in poco più di 12 minuti attraverso il suo cortometraggio racconta la bellezza oltre il degrado del quartiere Previdenza partendo dal progetto appartamente documenta la città, i luoghi, le storie collegate alla fase di rinascita del quartiere del centro storico ma ci sono anche le voci dei cronisti che la storia del capoluogo la scrivono, raccontano e vivono giorno per giorno ci sono inoltre le testimonianze di chi il quartiere lo vive Il progetto lascia in continuità con un altro video che avevo realizzato l'anno scorso sulla realizzazione delle saracinesche come pagina di libro da un'iniziativa del comune di Caltanissetta ho voluto documentare queste fasi iniziali con gli interventi della scuola, dell'istituto d'arte di San Cataldo la realizzazione dei murales e soprattutto il quartiere pilota mi porto le persone, le persone che ho incontrato in questi vicoli, in questi quartieri che è là che bisogna, da là bisogna ripartire gli interventi urbanistici, architettonici sicuramente sono importanti e rigenerano, riqualificano degli spazi creano dei luoghi di aggregazione è un percorso che va continuato sono così le vite delle persone che riempiono le pagine della storia della città che si affaccia in uno dei suoi quartieri radice da cui riparte la rinascita è un percorso che si affaccia in uno dei suoi quartieri